hanno fiato alle loro trombe in un ultimo spaventevole urlo. La verità. Lui si svegliò, si stirò le membra, si alzò, sostò il ritto in piedi nella sua assoluta unità e mentre durava ancora il tuono delle trombe, verità, verità, verità. Altro non ci rimane che confessare. Egli era una donna. Ella intanto si considerava da capo a piedi in uno specchio, senza dare segni apparenti di emozioni. In effetti, per ora pareva titubare. Era un uomo. Era una donna. Conosceva i segreti, le debolezze di entrambi. Era in uno stato d'animo stupefacente. Le dava le veridigie. Le dava le veri il terremesso. Gliudici. La dava le veri il terremesso. E' questa la pietà, è questa la pietà. E' questa la pietà, è questa la pietà, è questa la pietà. E' 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 questa la pietà. Grazie.